Yes we are Il link del video abbiamo lasciato al channel Non so se l'avete visto Probabilmente no Quindi questo sarebbe il nostro secondo episodio Ma qui è il primo E vi ricordiamo faremo una partita in dominio Vai Sì scusa In due round Cioè un round per uno Con classi schifose Presenta la tua classe Allora io ho una Faccio vedere Sì sì vai faccela vedere Allora ho sta cassa di merda Con già sta pistola che già non so usare Vabbè mettiamola Con reflex sulle pistole che non si può guardare E' vero Col tumo che faccio pena E così messa a caso Esattamente tanto questo che Se nel caso mando il visa Adesso la modifico e ci metto un bellissimo scaracca No non è vero Invece io Poi è una mappa grande Capito Userò un S12 silenziato Con l'FMJ Inutile Che fa un FHJ Sa legge Con l'infiltrazione Il tomo Con altre cose messe a caso Soprattutto le stesse delle mie comunque E vabbè Perché sono le più inutili per queste cose Inizia mister field Su standoff L'executioner Vittoria L'abbiamo vittoria L'abbiamo vittoria L'abbiamo vittoria L'abbiamo vittoria Ah le serie di punti ti dico C'ho a mezzo Vito il cane Oh stai levando voglio l'ho Vai ballista No non è vero Executioner No non è vero C'hai UAB attacco e torretta Ah ok vabbè Forse ne riesco a mandare Almeno l'UAB forse ne riesco a mandare Allora dopo devo cambiare fuori Oh ok no vabbè No qui ti segano subito Guarda come ti segano Non è vero guarda Non mi ha seguito nessuno Esplosivi Oh oh c'è un tizzo C'è una cammina A coltella a coltella a coltella Ma questo è rincoglionito Ma questo è rincoglionito La gente è idiota C'è mi vede Già io C'ho la mira Che fa pena E A 8 Sì io gioco con 8 Potevo lanciare Tomahawk giustamente E buongiorno Mi metto davanti perchè non ci vedo Prendiamoci subito Fumogera Fumogero E grazie Tomahawk Non è vero No Non è vero Vuoi dire dove l'altra volta Al viso del channel hai messo Hai fatto 0 Dai Non mi spavagli Con questa pistola del carro Ma dai Perché Perché mi Fumogena Io Sono tanto bello con il mio scaracca Perché mi ti lasciami a fare le patate con questa arma del merda Ma non è che ho sciolta Padre Lancia la fumogena Lancia la fumogena là dentro Si Si Poi entra tranquillamente sparando Tu farei due kill Ho fatta Una di te coltello eh Tu farei due kill con il pumping Io con questa Guarda Ma voglio vedere un po' O meglio Sta sopra Sta sopra Sta sopra Non è vero sta là accanto Ma Non ci credo Mi volle che neanche l'hai colpito minimamente Si Ma anche allargare Lo vorrei dire Uno sei Ma che c***o No Fumogena random Entro tu Qua c'è una bolzibetti Mi abbasso No non ce l'ha più Oh 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 mio dio Mamma mia No no Oh Oh Ti posso prender Remington Te prego dimmi che ti posso prender No Eh no certo che no Scusa una volta che puoi usare questa arma Non mi fa più pena Delle 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 Zombie Eh forse Guarda quante pistole Tutte migliori di questa Ma perché fai giri inutili Perché non si gioca Buongiorno Omogeno Scendi 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 Eccolo che mi piace Inoltre ho abitato facendo il salto Oh B salto C***o hai visto il lag Che l'ho fatto che ho preso due ore dopo No non lo prendi non lo prendi Allora qui c'è tantissimo Questa poi c'hanno tante pali qua Adesso faccio così No Bravo Un minuto e cinquanta di agonia Sì Da me basta Guarda Perché No Eccolo In salto No è morto Eccolo salà 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 Sta entrando Oh Ogni uccisione qua è Il gatto del mondo signori Voglio Vogliamo un quickscope No Salà dentro salà dentro Nel vero Sì C'hai Oh l'altra volta ci stava la partita con No nel vero non c'è fai nessuno Oh Guarda la preda la preda la preda eccolo Lo vede lo vede lo vede lo moccata Vabbè ciao Terzo il muro Oh Lei vede il cazzo mico mio no È mio mio Wow La preda La preda non aveva scampo Parando a random Eeeh Eeeh Sono immune al Warthog Ok no Certo che sei immune al Warthog Dio L'altra volta ti stavano a chiamare lo sciame Stavo perdendo la Ora adesso lo chiamo io lo sciame Ti ricordo che hai fatto trentacinque No Oh No scopo Oh mio dio Oddio una killa Te le mancava uno al lobby Una killa Per me è una cosa vera Cioè io riesco a mandarlo lo sciame una volta Una volta Dico per culo Ma ovviamente lo avvi con le execution Ecco lo stanno là dentro Lo stanno là dentro Vieni qua Oh t'ho vista a te Però adesso tu non mi vieni più Ah Non credo Ho anche sparato No raga l'ultima Vengo io Col Tomahawk L'ultima adesso vieni col Tomahawk Sto giocando con le execution Sto mancata laggiù Ho preso il muro Sarò per dieci Eh niente No no c'ho qua dieci secondi Dieci nove Otto No è molto Sette Eh stanno su A Cinque Quattro Tre Due Pistola in me Io odio questa pistola in me Oh E la partita crasha E la Eeeh No La connessione Oh mio dio Crash la Vabbè ragazzi Becchiamo dopo quando riusciamo a prendere una partita Grazie Bentornati dopo la prima pa- la pausa Vedete come i tecnici di prima che tutti avete visto Ecco E quindi adesso dato che Per problemi di tempo Non faremo più dominio Eh però non vale Cioè io ho fatto la partita di merda su Su Tocca deathmatch La dove è più veloce Su cosa Che mappa era Eh non mi interessa Eh sta mappa è piccoletta Col pompa a fare stragi S12 C'è credo Eh cioè non è possibile però Adesso io vorrò vedere La potenza dell'S12 Scassiata Eh ovvio che tu farei meglio di me Ma sta mappa è molto meglio per il pompa Io non avevo pensato a schifare Perché ogni volta In ogni cosa devo fare io quello Io devo fare quello che sta meno kill Certo Dove sei spesso più scarso Ma non è vero L'RDSR D'oro Probabilità Sono bravissimo Yeee E' da tanto che non avevo un fucile a pompa Ma le faremo vedere un video di una partita normale Non così a cazzo Certo che no Ecco l'FHGA Perché no Scusa eh E subito No non ho l'inscrizione sulle tattiche Ho pensato ad avere Io ho pensato ad avere il fumogeno No io invece un video di una partita decente la farei anche Le farei anche vedere Eh ma io non sarei capace Eh io si Spiegate qua sotto se lo volete Un bel gameplay da Mr. Field Omi Sono traforto O mica moriva eh Pochette marche mi dicono Aspetta ma io mo' mi cambio subito Scusate Io ho diversi Oho Headshot No non me l'ha dato l'headshot Scusate Oh mica mu Aspetta Bene Cioè vedi io stai giocando più di me Perchè questa mappa è molto meglio Riponta Faccio una cosa interessante io Vabbè dato loro si diventano a vedere me sclerare 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 Ok non so parlare E poi vedete che giochi un pochino meglio Però nella realtà io gioco molto meglio di lui Non muori Non muoiono mai È una cosa esagerata Io gioco molto meglio di lui sappiatelo Non muoiono mai Non muoiono mai No TOMAKO Non sentite quello Oh my god Laaaa Bello Tu sto a fare 2-5 Dai adesso voglio farvi vedere una partita Seria Se vuoi la gioco anche solo io Se vuoi giochiamo in due Però io con il mio account, le mie armi Le mie classi Ammazza in faccia gli hai messa Questo è stupido però Troppo scemo Io gli sparerei col pompa da quella distanza Sì Sai che ti dico Assista Strano, se ne fa pochi di assista Ho fatti 3 L'ho preso col tuo mok Mamma mia Col tuo mok Uav Eccolo Allora vedi che non è inutile l'FHJ Ti sottapunti Dai ma guarda UAB Cioè non ci credo Perché io non so l'executioner UAB Alleato in arrivo Vabbè ma a te c'è una gente stupida Veramente La gente idiota c'è sta qua Che divertimento Dopo faccio la mano perché la serie faccio io il divertimento Ma che cacchio Vabbè Ecco Se si ammazzavi col pomo Che è veramente Pensavo che era uno Uno vivo Eh io sto Pensavo che era uno vivo Perché ci stavo rimo Lo avvino E dice Pensavo fosse morto allora No pensavo fosse vivo Vabbè Lasciamo stare un assenso Vabbè Scrivete nei commenti Se avete capito quello che ha detto Perché io non l'ho capito Che Se mai qualcuno guarda l'altro video comunque Non è falsa modestia È realismo Comunque ti dico che sto in positivo Io pure sto in positivo Stavo steso Cambio caricatore No Comunque muoiono dopo 67.000 colpi Comunque meno male che c'è Shagall Dopo contatto 67.000 Preso Uavvie Col tomahawk No ma preso Bravo No Più ma stava col cecchino Guarda che ho trovato Oh ma ce l'hai fatto a mattarlo Caricato Dici come va a mattarlo Mamma mia rega Adesso sono concentro Che stava facendo quello È proprio rincoglionito No Io metto l'infiltrazione tattica dove è utile Cioè Nel tuo spawn immagino Sì Utile Ma se sponi due metri più in là invece che indietro Non ci posso credere Guarda che ti dava un minimo 10 copie Se devi fare una doppia Non puoi Perché se abbiamo 10 copie Voi ammazzarne uno Guarda io me lo becco subito Mi diciamo che non sto più in Positiva Oh manco uno Oh 100 di assist Doppio assist Ragazzi questa partita è bellissima Boom Solo perché È cacciata la connessione Preso Col tuo monk Di tuo monk Oh no No aspetta Cioè avvicinati no Vedi Vabbè questo è deficiente Fio mio sei proprio stupido Stai a LuaV vero mica Al colpo femminante Ma guarda la gente idiota che c'hai Ma guarda Cioè Ma sono te Cioè ma di dove sto io Ste persone stupide Online Cioè farei veramente le strage Farei mille nuclear Ma guarda Ah ok Io pensavo che è successo te Cioè la gente idiota Comunque la vicino è sciotta Ma Cioè guarda Guarda questo Vabbè ma questo è stupido Cioè a fuori Cioè a fuori atti c'era il copo Ma vai Ma non ci credo Il copo pulminante pure 22 Ma non ci credo Ragazzi siete delle pippe Vergognatemi No vabbè ma sta succedendo Cioè guarda Guarda Se ero io Ma avevo già sparato Se ero io Ma avevo già sparato Ma guarda la gente idiota Vabbè ragazzi È stata una cosa divententissima Per te Adesso tu mi fai entrare E mi fai fare una partita decente Giusto per non mandare a puttare il mio radio No no Ragazzi ci mettiamo al prossimo video 10.000 like Per il ritorno di Mr.Beat 10.000 E ci mettiamo al prossimo video E bella a tutti I'ma try it out Ok